buongiorno questo è un video polemico molto polemico questo che c'è qua davanti è un barattolo di yogurt che compro solo una volta al mese allora io lo yogurt lo so fare e lo so fare bene mi viene molto buono senza bisogno di yogurtiera perché non c'è bisogno di yogurtiera basta avere soltanto il latte e due cucchiai di yogurt intero e viene fuori uno yogurt buonissimo non me lo posso fare perché non esiste più io almeno non lo trovo più nei supermercati che ci sono nella zona il latte in vetro se io voglio farmi lo yogurt sono costretto a comprare il latte in bottiglie di plastica io già uso i filtri del rubinetto per non produrre bottiglie di plastica d'acqua ma figuriamoci se compro il latte in bottiglie di vetro in bottiglie di plastica scusate cerco il latte in bottiglie di vetro è una questione di responsabilità nei confronti del pianeta l'altra alternativa c'è o compro continuamente yogurt in barattolo di vetro che costa un poco di più di quello del barattolo di plastica nel barattolo di plastica chiaramente non lo compro nel barattolo di vetro io mi rifiuto di assoggettarmi ad una logica di mercato che dice devi fare quello che dico io e devi comprare quello che dico io no io se una cosa la so fare me la faccio se una cosa non la so fare ci rinuncio grazie